Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Sulla FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone, rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Per altri lavori, rallentamenti tra Ponte d'Era Ovest Ponsacco e Ponte d'Era Est in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Pisa Nord-Est, provenendo da Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Roma, possibili disagi per un incidente avvenuto al chilometro 367 tra Arezzo e Monte San Savino. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!